musica Ragazzi, che spettacolo, partenza, missile delle vetture che sono già in San Donato. Con Kimi in questo momento davanti a Seb, Kimi con la F-150, le vetture sono una in fila un'altra, che ha trovato un grande parvecicolo a Ferrari, c'è un momento in cui c'è il passaggio di Consegni e di Kimi a Seb, il passaggio anche di Gutierrez, i pionti sono appaiati in questo momento nel 2020, Seb al comando, Seb e poi Gutierrez, Kimi, Kimi Raikkonen e Mark Genet che chiude il quartetto, Mark che ha abbandonato per un attimo il microfono di Sky Sport Formula 1 a cadere, ritornato nello stretto abitacolo di una Formula 1, aspettiamo per il passaggio. Il passaggio in Prada per questo saluto che è stato fatto ieri, se lo spazio invece ai motori di queste straudine del microfono. a a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.